Gossipita VIP, se lo sussurra, lo svegliamo. I rapporti tra la regina consorte Camilla e i futuri monarchi William e Kate sono sempre più tesi, con le recenti vicende che hanno ulteriormente inasprito la situazione. La malattia di Kate e la convalescenza di Re Carlo non hanno mitigato le tensioni, che sembrano aggravarsi ogni giorno. Camilla non ha mai avuto un legame stretto con i figli del marito, e la situazione si è deteriorata ulteriormente. Secondo Christopher Anderson, esperto reale e autore di The King, The Life of Charles III, William e Harry hanno sempre nutrito di fidenza verso Camilla, in parte per la loro lealtà alla madre, Diana. La situazione è peggiorata quando i principi scoprirono che Camilla avrebbe fatto trapelare informazioni riservate ai media per ottenere favori. Camilla, descritta come snob e convinta sostenitrice dell'aristocrazia, era inizialmente contraria al matrimonio tra William e Kate, considerandola di classe inferiore. William, pur mantenendo una facciata di tolleranza, non nutre simpatia per la matrigna, una consapevolezza che inquieta Camilla. La frattura definitiva si sarebbe verificata quando William ha licenziato Annabelle Shand Elliott, sorella di Camilla, che lavorava come interior designer per il Ducato di Cornovaglia. Questo gesto ha scatenato l'ira della regina consorte, portando a una rottura quasi irreparabile all'interno della famiglia reale.